ben ritrovati ragazzi dal vostro lucogeno 77 bene siamo qui accompagnati un nuovo episodio di boom beach non mi ricordo esattamente dove ci siamo lasciati comunque sono riuscito a portare il quartiere generale a livello 6 e possiamo creare il nostro clan andiamo subito su questa iconcina crea il nome lo chiamiamo protube come quello di jungle it entra su richiesta naturalmente se scrivete faccio parte di youtube ti seguo su youtube eccetera eccetera il requisito di entrata nessuno lo stemmino vediamo un po' come lo facciamo un bel nero mi piaceva questa qua facciamo così dai eccetera descrizione nessuna e creiamo ma davvero creare l'unità operativa protube può creare solo una volta alla settimana ci creiamo ok l'abbiamo fondata questa la chat vi aspetto numerosi naturalmente vediamo qui a che punto siamo arrivati ok dobbiamo fare un sacco di cose perché sono passato dai quartiere generale quindi ci sono tante nuove strutture da inserire torri di cecchini mina mitragliatrice cannone ci sono rinforzi veicolo da sbarco scultore intanto facciamo subito un piccolo da sbarco ok e lo carichiamo subito vediamo che c'ho qua c'ho due mitragliani mettiamoci lanciarazzi come si chiamano questi i zucca mettiamoci i zucca accogliamo il nostro denaro ok e facciamo subito un aggiornamento portiamo il mortaio a livello 2 lo portiamo qui insieme ok vediamo un po la mappa cosa ci dice raccogliamo i nostri nostri gemme diamanti questi sono andiamo qua cosa è successo base a salita non ci interessa direi subito di pulire questa zona qua generatore vediamo come sta messo si attacchiamolo va attacchiamolo subito eliminiamo la torretta qui ok e naturalmente attacchiamo da questo punto senza farci prendere dalla metragliatrice qui ok spaccati tutto qui così ci facciamo i nostri punti in attira intanto che bussa un po' questo ok ok attacchiamo questo questo ma ci sono per us 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 perfetto adesso spacchiamo il quartier generale perfetto abbiamo guadagnato il nostro oro le nostre medaglie il legno le pietre nessuna perdita per fortuna possiamo attaccare direttamente questo sopra aria fresca vediamo come sta messo c'è il mortaio qui lancia fiamme e la torretta io direi di fare così fare fuori subito il mortaio poi barchiamo qui andiamo prima i mitragliere i mitraglieri davanti abbracchiamo le torrette poi subito sul lancia fiamme le mando anche una bella cura perfetto poi fate quello che volete spaccate tutto tolrete una mano qua ok anche questo è distrutto nessuna perdita oro legno e pietra perfetto ok questi sono giocatori vediamo un po' come stanno messi questi poi attaccheremo successivamente la mappa diciamo che praticamente è tutta libera ripeto abbiamo creato il nostro clan vi aspetto numerosi anche se state iniziando adesso a giocare a questo gioco magari vedendo questo video che è venuta voglia vi aspetto fate richiesta entrerò e vi accetterò se poi avete qualche consiglio da cambiare sull'iconcina o qualsiasi altra cosa me lo chiedete lo faremo insieme comunque e che altro dirvi vediamo se possiamo potenziare qualche truppa potenziamo subito questo perfetto perchè l'arsenale serve a questo ve lo ricordo a potenziare le truppe a passare di livello e anche potenziare i missili l'artiglieria che voi lanciate dalla vostra barcona principale le mine che stanno sul nostro villaggio e questa è la cura il kit medico che lanciate alle vostre truppe in fase di attacco bene ragazzi questo episodio era per farvi vedere che comunque il clan è stato creato ci ho messo un po' di tempo perchè come al solito c'è un sacco di cose da fare e vi aspetto numerosi su Django Lite non siete in molti comunque vabbè è un gioco che manca a me non è che piace tanto io pubblico molto Boom Beach e Clash comunque Clash cercherò di fare qualche puntatina partendo da un villaggio da zero vediamo appena riesco a trovare un po' di tempo per farlo vi prometto che comunque mi piacerebbe molto iniziare una serie di Clash of Clans anche perchè ho già due villaggi uno sul telefono e uno sul tablet anche di livello abbastanza alto che però vorrei cominciarne uno nuovo con voi piano piano e magari dirvi un po' di segretucci o insegnarvi qualcosa di nuovo se non lo conoscete per questo episodio è tutto ci vediamo al prossimo episodio di Boom Beach vediamo in quanti entrerete all'interno di ProTube il clan appena creato come al solito vi ringrazio per la visione Gigi a tutti ragazzi grazie grazie